Il 29 novembre in primo piano nel TGL News il sequestro di quintali di pneumatici abbandonati effettuato dalla Guardia di Finanza Caverde di Borgonovo, un'operazione in cui i dettagli saranno resi noti nelle prossime ore, comunque ha visto impegnati diversi militari in questa struttura, in questa cascina in cui erano ammassati diversi numerosi, tantissimi pneumatici e che dunque erano anche a rischio ambientale, immaginate se avessero per qualche colpa di qualcuno preso fuoco. Restiamo in Valtidone, ci occupiamo della logistica perché colui che di fatto ha creato in qualche modo il Logistic Park di Castel San Giovanni, vale a dire l'amministratore della Vailog ha annunciato che un grande marchio della moda sbarcherà presto proprio alla logistica di Castel San Giovanni, 18 mila metri quadrati, il nome è ancora top secret ma si tratta dell'ennesimo investimento in logistica nel nostro territorio. Il territorio della Valtidone piange anche la morte di Vittorio Travini, lo storico fondatore dell'azienda Olimpia 80 di Borgonovo, si è spento a 68 anni, dunque un lutto per tutta la comunità appunto di Borgonovo e tutto il mondo imprenditoriale piacentino. Ci spostiamo di Valle, andiamo in Valtrebbia perché gli studenti in piedi sul pullman da Piacenza a Bobbio si lamentano e inviano una lettera aperta di protesta che trovate sul nostro sito liberta.it. Tanto sport, ieri vi abbiamo dato conto nel pomeriggio della sconfitta del Pro Piacenza, ieri sera invece il Piacenza ha ottenuto un buon pareggio in rimonta a Vercelli, 1-1 pareggio bianco-rosso di Pesenti, c'è anche da dare la notizia dell'ufficialità, dopo l'esonero di Coppeta il nuovo allenatore della Becchieri Basket è il casertano Gennaro Di Carlo, sarà presentato proprio oggi. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e ovviamente nel TGL delle 13 e 15. Grazie a tutti.